Ma bella a tutti ragazzi qui è GabbyDark98 e come possiamo vedere siamo con un nuovo video su FIFA 17 ovvero sulla compravendita Ho visto che lo scorso video non è andato proprio benissimo anche a livello di views e soprattutto di feedback e like Speriamo che questo vada un tantino meglio Dunque in questo episodio vi volevo portare un ottimo giocatore per la compravendita Uno dei giocatori che è più usato su FIFA 17 ovvero stiamo parlando di Renato Sanchez Renato Sanchez ragazzi lo prendete per una cifra pari a 1400 crediti Ora vi faccio subito vedere Queste sono tutte offerte mie come vedete ho offerto un po' di pagine 1400 quindi andiamo Offrite a quelli che ci hanno più contratti e che stanno un po' meglio messi di forma fisica Quindi 7,99 va bene 8,99 va bene E così via Questo ho già offerto Questo pure Ok E vi ho fatto vedere E voi una volta che l'avete vinto a 1400 crediti Vediamo quanti ne ho vinti io qua Ne ho vinti subito Su 3,91 Quindi lo prendiamo E come sapete ormai Perché è l'ennesimo view della compravendita Se l'ho preso a 1400 Voi dovete metterlo automaticamente a 1600 Così c'è un 200 crediti di profitto Che non sarà mai sì 200 crediti Perché c'è il 5% della tassa EA Ma sarà su per giù Un 150 160 Adesso non so benissimo ragazzi Se volete fatevi un calcolo voi Dovete togliere comunque il 5% E come vedete qua La compravendita va benissimo Perché in In poco tempo Ne ho venduti 11 Quindi ragazzi La compravendita è questa E ora Come ogni video della compravendita C'è il contest finale Dunque Mi dovete dire Chi è il giocatore Che ho usato Nella scorsa compravendita Il vincitore Vincerà 10k Per il contest Invece di Florenzi Dovrò fare A breve Un video dell'estrazione Sì ragazzi Sono un po' impegnato Con i tempi Quindi la vedo un po' difficile Dovervi incastronare Questi Questi video Quindi ragazzi Mi raccomando 20 like Ci sarà l'estrazione Mi raccomando 20 like Chi è il giocatore Che ho usato Nella scorsa compravendita Detto questo Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Al video E Un commento Bella